Inizia il decentramento. E' così. Potevamo iniziare passando attraverso le regioni, dando alle regioni queste incompetenze, però in un paese come questo, dove nessuno vuole mai fare niente, cambiare niente. Abbiamo dovuto avere la forza di iniziare. Poi sono convinto che si troverà la via in un'altra. Siamo contenti di arrivare qui. Questa è la prima delle stanze, questa è pluriministeriale. Questa è la mia scrivania, quella alle vostre spalle è la scrivania del ministro Tremonti. Qui alle vostre spalle verrà collocato anche il ministro Brambilla. Tre ministri in una stanzetta così piccola, come riescono a fare? Il problema non è la dimensione della stanza per fare le cose buone o ottime, è la testa che sta sopra le spalle che cambia. Il risultato del prodotto non è che lavorando in un'unica stanza, come fanno del resto tutti i giornalisti, perché lavorano in open space, non riescono a scrivere, ci riescono tutti. Grazie. Grazie. Grazie.